salve amici oggi siamo con un caro amico di più s un professore universitario vi presento subito il nostro amico abitui di più s appunto walter nocito ciao walter ciao grazie per questo invito il periodo è brutto ma insomma dobbiamo dire pure qualcosa e io infatti essendo curioso mi rivolgo a personaggi come te per cercare di capirci perché ai mesi vuoi stare davanti alla televisione in questo periodo probabilmente capisci poco oppure capisci solo un colore non l'altro pazienza walter io partirei subito dalle domande perché ne ho qualcuna in più stasera rispetto alle altre volte però ecco volevo capire da te dove sta andando questa italia con questo conflitto non credi visto che tu insegni diritto non credi che sta andando un po contro l'articolo 11 della costituzione grazie per questa domanda è veramente difficile non è nelle mie forze ultraviles parlerò e dirò cosa l'italia in quanto repubblica in quanto organizzazione politica e quindi parlamento governo presidenza della repubblica sta facendo l'articolo 11 ricordiamola a chi non abbia memoria dice che l'italia partecipa alle organizzazioni internazionali cede la sovranità verso alcune organizzazioni internazionali per sviluppare la pace e la giustizia fra i popoli e comunque l'italia tutta ripudia la guerra come mezzo di offesa alle altre nazioni e agli altri popoli e come mezzo per risolvere le controversie nel diritto internazionale questi sono due bei principi sul quale insomma io mi soffermerei mezz'ora ma non posso che enuclearli e verificare cosa sta facendo da febbraio in poi l'italia come repubblica allora facciamo il passetto indietro negli anni duemila e diciassette duemila e ventuno si sono riuniti molte volte in francia per cui si chiama formato normandia due arbitri europei e due contendenti nella continente europeo cioè l'ucraina e il governo legittimo è la russia la federazione russa con il suo governo legittimo per risolvere un problema una controversia tra i popoli una controversia tra le nazioni che si chiama il regime giuridico della crimea e delle province autoproclamata indipendenti del donbass questo è stato il problema l'italia non ha toccato palla su questo perché evidentemente nel duemila e quattordici duemila e quindici non è entrata pur essendo molto intrinsecata alla repubblica russa e ad altri stati del fronte orientale europeo non è stata ritenuta adatta a negoziare questo negoziato è andato avanti al diciassette venti febbraio crolla il tavolo negoziale normandia e quello che fa putin e cosa nota fa una guerra d'aggressione lo stato italiano il giorno stesso dell'aggressione russa all'ucraina fa il passaggio per me fondamentale cioè riunisce il governo la presidenza della repubblica e le forze armate nell'organismo chiamato consiglio supremo della difesa che esprime valutazioni e dal parere al capo delle forze armate sull'utilizzo della forza bellica per costituzione si riunisce e dice che la situazione è grave che bisogna far scattare le cosiddette sanzioni internazionali di guerra e sono sanzioni prettamente economiche il consiglio supremo al quirinale non parla di intervento armato ma rinvia agli organismi europei gli organismi europei tre giorni dopo si riuniscono e il 28 febbraio approvano le misure di aiuto all'ucraina e di sanzione alla russia c'è il pacchetto che è un grosso pacchetto ora in aggiornamento in questo pacchetto si stabilisce oltre che gli aiuti umanitari e gli aiuti diciamo economici all'ucraina anche parziali aiuti militari alcuni possono ritenere io fra questi che l'aiuto militare allo stato ucraino sia in eccedenza rispetto al limite costituzionale ma non è vero che molti lo pensano in questo modo tant'è vero che il governo ha recepito la decisione del consiglio dell'unione europea che l'organismo decisionale intergovernativo che rappresenta la volontà precisa di tutti i 27 stati nessuno escluso qualcuno non ha proceduto a fare gli invidi armamenti ma comunque hanno prodotto quella decisione il governo italiano ha fatto il decreto legge ucraina poi convertito in pochi giorni già legge questo decreto all'articolo uno stanzia finanziamenti e cessioni gratuite di armamenti dal sistema militare italiano quindi dall'arsenale al fronte governativo ucraino quindi noi siamo non co belligeranti ma siamo di assistenza militare alla parte belligerante nel conflitto ora l'italia militarmente ha fatto questo militarmente ha avviato tentativi negoziali a supporto degli altri soggetti ma gli altri soggetti purtroppo in questa fase non sono più francia e germania come era nel pacco normandia nel formato normandia ma sono passati inevitabilmente fuori dal conflitto europeo perché i paesi europei con quella misura sono diventati sussidio militare a parte belligerante quindi adesso abbiamo nella politica e nel diritto internazionale che si pongono come arbitri della vertenza della controversia israele turchia entrambi potenze militari regionali e la cina che non è una potenza militare ma è una potenza economica che al momento sussidia in sede diplomatica la russia ma non aiuta in sede militare la russia quindi l'italia si trova in questo gioco per il quale siamo a tutti i livelli vincolati all'unione europea e al governo biden cioè agli stati uniti d'america questo probabilmente ce lo dirà l'esperienza e la valutazione ex post se sia in linea con la costituzione per cui abbiamo sostenuto una guerra difensiva ovvero se stiamo trasformando l'invio di armi in un tipo di guerra offensiva la guerra offensiva è vietata la guerra difensiva è consentita ma lo strumento per difendere lo stato il territorio statale italiano rimane la nato e teniamo presente che la nato in questo momento non è parte della controversia internazionale forse è causa ma non è soggetto della controversia internazionale questi sono gli estremi di diritto internazionale ma anche di diritto italiano perché l'italia comunque sta seguendo un percorso che avrà dei passaggi per come ha parlato draghi il mese di aprile continueranno i sostegni militari del governo italiano al governo ucraino e ieri abbiamo visto che il governo italiano è alleato del governo ucraino non è normale questo è il vero punto che bisogna dire e su questo non siamo tutti d'accordo c'è una quota in italia di neutralisti che voleva la repubblica tenersi indipendente e neutrale nel conflitto per facilitare la via negoziale adesso invece abbiamo la via militare assistita dalla via negoziale c'è una sinergia che enrico letta dice essere utile ecco walter tu parli appunto di neutralisti e di conflittisti chiamiamoli così ecco però in italia stiamo notando non ne parlavo prima c'è la stampa quasi tutta intera diciamo la verità l'italia non è fra i primi posti fra la libertà di stampa lo dicono le statistiche e hai voglia dire che siamo democratici però sembra che addirittura alcuni giornalisti abbiano paura di parlare anche se la pensano in modo diverso hanno paura di perdere il posto di lavoro no quindi cosa pensi di di questa situazione che qualsiasi tv nessuno si può fermo restando attenzione la condanna all'aggressione voluta da putin per carità noi siamo almeno io penso pure tu siamo equidistanti no siamo neutralisti per così dire però siamo per la via diplomatica ecco per la via diplomatica non per la via militare insomma ecco la stampa italiana secondo te come si sta comportando allora i cosiddetti diciamo pivò della stampa e della libera tv italiana quella privata e quella pubblica sono per la via militare tutti gli editorialisti tendono a sostenere questa via e quindi le prime pagine dei principali gruppi editoriali ma anche della rai tg1 per esempio sostengono la via militare quindi sono filo linea draghi questo ora potrebbe essere un problema non è dato a me dirlo quanta sia la libertà di stampa ma in verità io poi qualcuno che scrive e enuncia qualcosa sulla tv pubblica ma anche su alcuni canali privati e su alcune testate nazionali lo trovo per esempio il fatto ospita uno editorialista che fino a qualche giorno fa anzi un paio di editorialisti che erano nel gruppo jedi e nel gruppo messaggero sappiamo che i gruppi editoriali sono tre in italia per la carta stampata sono dominanti e questi due editorialisti uno è professore dorsi l'altro è professore orsini sono un politologo è uno storico uno storico del novecento abbastanza bravo sulla russia insomma questi qua sono passati al fatto perché hanno avuto la censura sulle testate nazionali il messaggero e la stampa non parliamo di colleghi giornalisti tuoi perché sennò dovremmo fare lunghi elenchi ed è antipatico ma io credo che il giornalista abbia il dovere di esporre le valutazioni di e dei due fonti delle due fonti e le due fronti e debba valutare bene sempre le fonti a me sembra che in spregio alla deontologia poi ci sia una selezione sbagliata delle fonti cioè tutti citano le fonti dell'intelligence americana dell'intelligence del governo ucraino dell'intelligence francese tedesca mai citata quella italiana veramente strano abbiamo solo gabrielli che fa qualche puntata rara in televisione per quanto riguarda i servizi segreti esteri l'aise che fa parte dell'agenzia dei servizi investigativi nazionali insomma il problema è la selezione delle fonti bisognerebbe molto lavorare sulle fonti lavorare sugli inviati e invece gli inviati in buona parte sono embedded cioè stanno seguendo le città ucraine dove c'è sostanzialmente il presidio del esercito ucraino ma anche qui il territorio ucraino è molto battagliato molto sofferente quindi è ovvio che andare a fare il giornalista sul terreno on field crea sempre dei problemi e noi siamo abituati dalla guerra del vietnam poi avere i giornalisti embedded perché poi prima del vietnam ma non c'erano proprio i giornalisti sul fronte di guerra o ce n'erano pochi temerari insomma che erano più che altro i fotografi di guerra erano sì fotografi e i cineoperatori che i cineoperatori embedded però no c'è vero no però anche lì la cinematografia era metà fra l'informazione e la propaganda la propaganda certo il confido è sempre quello umberto fare propaganda o fare informazione questo avviene per il discrimine tra professori universitari e giornalisti fare il professore fare il giornalista vuol dire fare informazione non fare propaganda se vuoi fare propaganda ti iscrivi a un partito o fai ministro in un qualche governo così io penso hai detto un vocabolo ministro voglio sorvolare su questa parola però approfittando perché quest'eco mi rimbomba nel cervello no ci siamo scoperti purtroppo ahimè anche in percentuale abbastanza razzisti perché stiamo guardando non solo la provenienza no magari la guerra nel cuore dell'europa e tutto quanto però per carità accogliamo gli ucraini in questo momento a braccia aperta ma non l'abbiamo mai fatto con gli africani o forse io sono dal tonico non riesco faccio finta di essere dal tonico perché non riesco a calcolare il colore della pelle per me un essere umano è un essere umano sempre l'italia invece non si è quasi mai comportate alla pari come lo sta facendo adesso no con quelli che arrivano dall'oriente quelli che arrivano dall'afghanistan appunto dalla nigeria dai paesi in guerra dell'africa perché succede anche questo è molto difficile essere imparziali su ciò perché insomma il profugo di guerra ha una sua normativa del diritto umanitario internazionale sono delle convenzioni sia per i prigionieri di guerra sia per i profughi di guerra sono soggetti diversi entrambi riguardati da norme di garanzia io vedo che anche lì la convenzione per i profughi e per i prigionieri non è che sia ben rispettata dalle due fronti nel campo e probabilmente ci saranno processi di natura penale internazionale quando cesseranno le armi sia nei confronti di crimini di guerra dell'esercito russo e del governo russo ma anche del governo ucraino perché probabilmente verranno fuori anche i fatti degli ultimi otto anni e si processerà chi è responsabile di crimini di guerra poi sulla immigrazione di natura politica cioè il profugo che scappa perché c'è un regime di guerra nel paese di provenienza o c'è un gravissimo pericolo di vita per se stesse per la propria famiglia ci sono problemi perché la disciplina esiste da tanti anni ed è il dublino regolamento dublino 1 e 2 poi siamo arrivati al dublino te probabilmente noi dovremmo avere con la guerra ucraina un dublino 4 perché dobbiamo assistere con garanzie maggiori di imparzialità i veri profughi di guerra quelli che venivano dalla crisi libica del 2012 2014 e dalla crisi siriana del 2015 il famoso esodo contrastato dal virulenza del ministro salvini a quel tempo nel 2018 poi ministro degli interni ma diciamo con un ruolo abbastanza preciso ci ricordiamo le vicende sulle navi e sulle ong c'è stato il processo penale insomma che ha sostanzialmente protetto con la sfera della intangibilità del parlamentare il parlamentare salvini bene su quel versante si confondevano le acque tra profughi che avevano diritto alla protezione internazionale e profughi senza diritto cioè emigrati economici in questa fase in vero tutti quelli che scappano dall'ucraina per decisione dell'unione europea e del governo italiano col decreto ucraina sono automaticamente ex legge profughi di guerra assistiti dalle convenzioni e assistito da una politica dell'accoglienza c'è un problema questa politica dell'accoglienza può funzionare per un milione due milioni tre milioni di soggetti distribuiti con quote nei paesi europei non potrà funzionare con dieci milioni di profughi come potrebbe accadere fra qualche mese se le cività belliche non cesseranno se questi saranno profughi definitivi che non possono rientrare nel proprio paese perché a differenza di quello che avviene in tunisia libia siria e egitto afghanistan lì l'ipotesi del rimpatrio c'è se noi invece distruggiamo cioè se lasciamo distruggere l'ucraina l'ipotesi del rimpatrio dopo un anno due anni per questi profughi di guerra scema evapora per cui non è solo accoglienza del profugo ma è trasferimento di popolazione la destra pensa che questa popolazione slava di pelle bianca si possa integrare bene nei paesi occidentali come l'italia alcuni possono dire che non ci pare opportuno fare questa assimilazione il vero punto è ma che fine farà l'ucraina l'ucraina verrà membrata e diciamo azzerata dall'esercito russo e dalla guerra oppure vogliamo tutelare il territorio e la popolazione civile dell'ucraina io credo che l'unione europea debba agire in questo senso e scusami se do una valutazione di ordine politico internazionale non bisogna sentire le sirene di washington e di londra dell'esercito inglese dell'esercito americano che sta riscaldando i motori perché sono eserciti iper efficienti e tecnologici e anche abbastanza esperti di guerre imperiali e di guerre anche a distanza e di guerre ibride si chiamano così quando c'è un strumento ibrido e questo qua hanno una loro via diplomatica che subordina l'azione diplomatica all'attacco militare stile serbia belgrado 1199 noi dovremmo avere invece una soluzione diversa che non renda l'ucraina l'afghanistan bis dei russi ma nagozzi con il governo russo la tregua il cessate fuoco e la spartizione meglio ancora la riarticolazione territoriale del stato ucraino in unità secondo una protezione internazionale con peace enforcing internazionale probabilmente simile al modello bosnia attenzione che alcuni in italia avevano proposto dice saldini averlo fatto a noi non trovo non abbiamo le tracce nel unico passaggio che lui fece quando c'era il format normandia di aver proposto la soluzione alto a tesina per il donbass quella potrebbe essere una soluzione cioè un regime speciale di autonomia con una demitalizzazione totale quindi assenza di basi militari in tutto il donbass meglio ancora l'ucraina orientale perché l'ucraina l'abbiamo scoperto ha una parte orientale russofora e una parte occidentale lituano polacca qua facendo i professori se mi consenti 30 secondi dovremmo vedere la situazione dal 1500 al 1700 quelle territori dove c'è leopoli ora erano la federazione polacco lituana erano il ducato polacco della grande polonia e la lituania che erano slavi del ovest viceversa i territori a est erano la russia erano la madre russia e chi era la patria l'origine della russia poi moscovita dal 600 al 700 c'è stato questo passaggio nell'ottocento si sono formati gli imperi e quel territorio era esattamente spaccato in due la metà era con gli austro ingarichi l'altra metà era con l'impero zarista se dobbiamo ritornare a quella situazione io credo che sia nel campo del possibile d'altra parte l'ottocento ha lasciato tracce che spesso riemergono e noi non lo sapevamo che potevano riemergono la greca turchia insomma lo spirito ottomano è forte in turchia la turchia sta lavorando per una potenza regionale ottomana tant'è che si è presa via la libia è diventata de facto protettorato turco ottomano anche la russia controlla una quota della libia l'altra quota la controlla la turchia per cui insomma la geopolitica è bella perché bisogna conoscerla da capo a fondo non a pezzi o a bocconi è vero Walter volevo domandarti una cosa che può sembrare strana no d'accordo con gli aiuti umanitari ci mancherebbe come diciamo sempre però l'italia sta mandando armi no abbiamo visto la settimana scorsa che degli operai dei signori che caricavano questo cargo si sono accorti che erano armi si sono rifiutati vuol dire che le armi stanno ecco nell'aeroporto di pisa io ieri parlavo col sindaco di amatrice no dico sindaco a che sta la ricostruzione del terremoto e lui mi risponde guarda siamo ancora al 15 per cento non sarebbe meglio è vero che sono due cose diverse ma alla fine no eh se abbiamo un euro in tasca e lo spendiamo per le armi probabilmente quando ricostruiremo amatrice tutto il centro Italia guarda se vuoi una mia opinione che sta nel campo della mia analisi e discrezionalità politica ti dico che uno stato per essere vero deve avere la politica interna con la solidarietà territoriale e la solidarietà sociale tra classi e territori ed è una voce di bilancio la predominante ma deve avere anche una voce di politica estera con delle spese noi però come italiani stiamo delegando la politica estera all'unione europea ragion per cui caro umberto arrivo a dire che il bilancio italiano deve essere dedicato al territorio italiano quelle che sono gli aiuti all'ucraina devono essere europeizzati ci vuole un fondo pari o superiore al eh eu found cioè un facility si chiamano ora così sf e si creerà e l'unione europea potrà non annettere come stupidamente dicono senza rispetto per la dignità e l'intelligenza degli studiosi ma collaborare con l'ucraina qualora ci siano soluzioni di pace che preveda un'area di smilitarizzazione e di neutralità internazionale ma non che diventa l'ucraina membro dell'unione europea però diventa partner assistita ma non coi fondi del governo italiano coi fondi europei come è avvenuto per esempio in polonia e anche lì dovremmo far tesoro dell'esperienza perché l'immissione del 2004 della polonia della baltica le tre repubbliche baltiche ma anche della romania e della bulgaria dell'unione europea ha creato dei contraccolpi che non sono estranei alla situazione ucraino-russa alla situazione caucasica e alla tensione militare internazionale l'unione europea deve stare attenta a vedere come impiegare le sue risorse economiche e le sue risorse di legittimazione politica. Walter abbiamo solo qualche minuto ti faccio l'ultima domanda eh come eh dicevi poco anzi il discorso di eh fondi europei no? Noi abbiamo il PNRR in questo periodo chissà poi come quando arriverà questo PNRR perché poi bisognerà vedere con questi aumenti tutti i progetti fatti se eh si riuscirà a a colmare il gap che si sta eh verificando ecco non credi che alla fine questo PNRR servirà a tappare i buchi che si stanno creando in questo periodo e magari chi risulterà il più danneggiato da questa operazione nelle zone nei territori italiani? Caro Umberto la domanda è difficilissima io credo che il PNR per come scritto nella primavera del duemila e ventuno in Italia ma anche in altri paesi verrà rimodulato aggiornato c'è un indice dei prezzi e dei parametri economici che sono saltati sarà una crescita differenziata e l'Unione Europea deve fare due investimenti e qua vado un po' per la tangente taglio con l'accetta un ragionamento l'Unione Europea si deve mettere in testa di avere una politica energetica di di autosufficienza quindi avere fonti che coprono il consumo senza essere dipendente dal petrolio americano saudita o russo ed è una cosa che fa tremare i polsi ma bisogna raggiungere con le scelte green e le scelte di sostenibilità questa autosufficienza energetica e io direi ma anche con l'edilizia con l'urbanistica e con la produzione industriale eliminiamo le produzioni energivore e poi c'è anche il versante agricolo l'Unione Europea deve mettere a frutto le risorse agricole di cui dispone e deve rendere più produttiva l'agricoltura più in utilizzo di grani specifici meno utilizzo del mais la produzione dei concimi non può essere appaltata all'Asia cioè ai paesi che si chiamano le ex repubbliche socialiste sovietiche perché da lì vengono tutti i concimi e l'agricoltura calabrese italiana sta soffrendo l'aumento della concimazione ma anche delle sementi probabilmente ci sarà una conseguenza sulle sementi che non saranno più comprate dai paesi dell'asia ma dai paesi del nord america quindi america e canada e quindi o gm non free queste sono conseguenze che nel pnr devono entrare quando ci sarà una rimodulazione la mia paura è ma il ministro italiano per l'energia il ministro per l'agricoltura e il commercio estero il ministro per l'industria è in grado di articolare un interesse italiano nel concerto europeo su questi versanti perché io della francia e della germania sono sicuro che sapranno fare la riconversione dell'italia mi diciamo duole notare che c'è carenza di progettualità e il governo dei migliori di mario draghi sta dimostrando di avere ministri nettamente inferiori alla media dei ministri della seconda repubblica e per alcuni aspetti anche della prima repubblica parlo di agricoltura per dire un settore ma anche altro non abbiamo un ministro dell'ambiente per esempio abbiamo il ministro dell'energia che al momento sperava e spera nel nucleare da diffusione dal nucleare 4.0 ma credo che anche lì sul nucleare o la scelta europea o non possiamo fare l'investimento italiano nel nucleare credo ma c'è quali problemi che emergono dal governo draghi che io tratterei quando avremo la mente più pulita e più serena dalla guerra guerreggiata e avremo gli effetti economici della guerra perché caro umberto ogni guerra alla dimensione politico militare ma anche la dimensione economica quando andavamo a scuola ci hanno spiegato che l'industrializzazione italiana è nata con la prima guerra mondiale e quindi con la industria pesante bellica dei gruppi in germania e dell'ansaldo breda a genova e a milano siamo passati cento anni ma qua stiamo ci sono effetti economici anche di aggregazione aziendale di rimodulazione dei mercati e della globalizzazione commerciale che vedremo già a partire da quest'estate da questo stagione della raccolta teniamo conto di problemi specifici tipo le riserve d'acqua e le riserve di manodopera agricola industriale insomma sono problemi che il governo deve porsi e ci deve far capire come se ne esce dal tunnel nel quale ci siamo ficcati con la pandemia e con la crisi russa del dittatore Putin che ora tutti chiamano dittatore dieci anni fa chiamavano l'amico Putin Putin Walter purtroppo ci dobbiamo lasciare perché siamo andati oltre tempo e di là mi fanno segno che con le mani così non so cosa significa ma sicuramente la settimana prossima ci aggiorneremo perché questo discorso è in continua evoluzione quindi lo teniamo sotto controllo per quanto riguarda l'agricoltura mi sono sentito con un imprenditore calabrese oggi che tu conosci e sicuramente in questi giorni faremo una chiacchierata perché è un amico in comune e soprattutto conosce bene il suo lavoro intanto ti ringrazio perché sei sempre una luce che ci come si dice ci dà la speranza quando ascoltiamo certe cose che molti credono di sapere non sanno grazie dell'invito io spero di parlare ad armi spente e con le città ucraide pulite dal bombardamento diciamo spopolate ma senza i bombardamenti e io credo che i profughi che stanno arrivando abbiamo detto stiano qui sei mesi cinque mesi ma poi nell'arco di un anno ritornino nella terra patria perché tutti abbiamo bisogno di una patria e non è giusto privare della patria un popolo certo intanto ti ringrazio ti auguro buon proseguimento e alla prossima ciao ciao ciao